Divinazione Expo 2024, la raccolta dei rifiuti, rimuovere i carrellati dalle strade, controlli e sanzioni ai trasgressori. Da domani, 14 settembre al 4 ottobre, in concomitanza con Divinazione Expo 2024, la manifestazione collaterale al G7 Agricoltura e Pesca, cambieranno in ortigia le modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti. Lo prevede una ordinanza emessa dal settore ambiente che rientra negli accordi tra le istituzioni locali con il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che organizza i due eventi. La novità più evidente è che nel periodo indicato ci sarà un calendario unico per le utenze domestiche e quelle non domestiche che ogni giorno dovranno essere conferite tutte le frazioni di rifiuti, carta e cartone, plastica e metalli, vetro e indifferenziato, ma opportunamente differenziato utilizzando i contenitori già in dotazione. I rifiuti dovranno essere esposti tutti i giorni nella fascia oraria che va dalle 23 alle 3 di notte. Per le sole utenze non domestiche è previsto un secondo passaggio di raccolta della frazione organica dalle 13 alle 14. I contenitori dovranno essere ritirati subito dopo la raccolta da parte della Tecra e comunque non oltre le 9 di ogni giorno. Il provvedimento dà rilievo all'obbligo di ritirare dalle strade di Ortigia i contenitori carrellati entro la giornata di domani, 14 settembre. Saranno intensificati i controlli per il rispetto di questo obbligo e i trasgressori saranno sanzionati secondo quanto previsto dalle norme comunali. I contenitori non ritirati saranno tolti dal personale della Tecra. L'ordinanza viene applicata anche alle aziende che partecipano con il loro stand a Divinazione Expo 2024 e saranno dotati di un apposito kit. Anche per loro varrà l'obbligo di non lasciare in strada i contenitori dei rifiuti. Inoltre dal 14 al 20 settembre, dalle 12 alle 17, gli espositori nei pressi del parcheggio Tarete avranno a disposizione un centro di raccolta mobile per il conferimento di carte e cartone, plastica, metalli e indifferenziato così da conferire gli scarti provenienti dal montaggio degli stand. Infine sono state individuate circa 50 strade in tutta la città, definite luoghi di interesse, dove sarà assolutamente vietato a tutti gli utenti di lasciare in strada i carrellati della raccolta differenziata. C'è tempo fino al 20 settembre e dopo saranno ritirati dalla Tecra.